adesso invece tino parliamo di cose serie aspetta aspetta parliamo di cose e da qua di qua allora hai capito la storia della telefonata ad angela come funzionerà o non l'hai ancora capita dimmelo no 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 andremo e quando io sto parlo perché ti avvicini tu con la cosa non ho capito perché vuoi sapere troppe cose private un po di me e di lei io mi avvicino quando il giorno del compleanno beh ecco mica ho sentito i fatti vostro state lontano poi ci siamo avvicinati perché siamo tutti insieme perché io volevo però sapere una cosa cosa hai capito della telefonata fra te e angela devo parlare con ciccio perché mi semplicisce non tu ciccio mi ha detto ciccio che poi sarebbe francesco lo psicologo il diminutivo c'è sempre anni secondo me che ciccio meglio ciccio mi ha detto mi ha detto che per un certo periodo tu e angela non dovete sentirvi al telefono dopo questo periodo potrete ricominciare a sentirvi al telefono ma per ora non si può questo è quindi per alcuni mercoledì la telefonata è sospesa che cosa che devo fare mi avete costretto per forza a fare che mo devo mettere in mezzo no non posso darti il numero di ciccio non posso darti il numero di ciccio è stata fatta anche per voi questa è una minaccia allora forse non si capite con un munchieste che mi stai minacciando no no perché voi collaborate ma con me collaborazione non c'è stà ora mi trovo la persona che dico io punto e come si mette anche da un guede pur tu gli schiamati madonna loco questa è una minaccia forte 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 questa è da direttore a direttore se vai proprio guarda guarda se vediamo fatti galletti per le spruga o sprugogalli cioè ma tu lo sai che non l'ho deciso io lo psicologo di angela ha detto che per qualche mercoledì bisogna sospendere la telefonata io che cosa ci posso fare noi facciamo quello che ci viene detto non è che possiamo fare quello che di testa nostra vogliamo perché l'ho capito il motivo qual'è il motivo aspetta 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 qual'è il motivo perché perché espressioni me l'hanno detto ma allora se io te lo sto dicendo adesso quale persona ti può aver detto prima che te lo dico io ha detto ci sono le campane le campane da là fino a qua le sento e cosa suonano? eh suonano di brutto allora è meglio che tu personalmente tu mi stai mettendo le mani a dormire tu personalmente sto che sembra felice di cangire mi stai mettendo le mani a dormire tu stai in collaborazione con me lei lo metterà è perché dove devo andare a quando si metterà quella che una volta solamente l'ho conosciuta ma sono dolore amare e questa volta la metterò per me andremo dove andremo e chiedo lo strappo non devi dare sempre tocche aspetta fammi tu mi stai minacciato no mi hai messo le mani addosso mi hai toccato e vuoi lo strappo per andare dalla giudice no quella che dico io è la giudice è quella che dico io quella che dico io è pericolosissima perché se a me di una volta la incrociai con la madre questa qua eh? tiro di nuovo le mani addosso mi stai mettendo no tu toglie le mani oh oh ma questo è pazzo ma ti sei rincoglionito come te? quello è e che sta qualunque? mi stai mettendo le mani addosso scusa e se facessi io così? no no scusa allora facciamo tutte e due dai vieni qua metti la faccia qua lo facciamo tutte e due mi stai mettendo le mani addosso? mi stai prendendo a schiaffeggiando? mi stai schiaffeggiando? non cedi per i bambini no ma non cedi non cedi mi sta schiaffeggiando eeeh dai no mi ha schiaffeggiato mi ha schiaffeggiato mi ha schiaffeggiato mi ha strattonato e schiaffeggiato diventa diventa eeeh a Giovanni che togli queste mani stai allungando troppo le mani oggi stai troppo esuberante oggi che ti denuncio di nuovo e quando vuoi? che cazzo cazzo da te? e che tu non vai? scusa ma tu che cos'hai da ridere? io non ho capito che cos'hai da ridere oggi e ridi in continuazione il riso abbonda sulla bocca degli stolti e beh io che sono? sei stossi idiota di nuovo eeeh vuoi mettere dentro la mano? ecco vieni qua vieni qua vieni qua perchè sei a trovare lei? per prendere mazzate sai se eeeh e te la ridi pure no facciamo dei bacchiaggi ah la vuoi finire tu? boh allora l'hai capita la storia della telefonata? allora l'unica cosa che devo fare ecco la la oh la volete finire? ah boh ...' di nuovo ecco ecco eeeh regia per il bravante l'hai capito o no il fatto della io voglio che tu mi dica se onesta adesso a parte tutto se hai capito la storia della telefonata che per alcuni mercoledì non potrei telefonare ad Angelo ok la tempo fa perché non la puoi il mio cuore la voglio sentire per alcuni mercoledì a re e allora mi pare che non hai capito il fatto torneremo sull'argomento ma tu per alcuni mercoledì non potrai sentire angela l'affanno ti è venuta a strassonare la gentilezza quando venga da delfia dobbiamo andare perché io d'acqua dall'istruzione io voglio le bolle bolle a forte da quando andiamo in palestra la dalle istruzione e tu le da me perché perché tutta sta violenza gratuita non ti voglio dare ma sa te non ne voglio da te punto basta e poi capi una cosa al re il mamma mia oggi perché perché vuoi capire ecco perché non ti andate ai carabinieri come che tu denunci me io ti do la sta fatta per me non lo fai eh non lo va io non ho capito vuole mazzato vuole essere denunciato perché perché sì perché almeno la regia ferma tutte e due che te le sto dando vabbè comunque oggi particolarmente superante con questa mano te la devo attaccare questa mano se ridi un'altra volta finisce oggi finisce in tragedia oggi finisce in tragedia eh oggi filmi una tragedia un pezzo di cronaca nera senza pietà ecco vedi che temi e devi temere tu hai le scarpe rotte stai zitto per ora è solo per ora è quasi tutto oggi giornata folle ma perché gli schiaffi perché che cosa ho fatto e non te le scappare tu perché a te voglio a te devo venire a te devo venire non te le scappare a te dove venire a te dove venire a te dove scappare a te dove venire a te dove scappare